Perchè non mi hai chiesto direttamente un'intervista? Sarebbe stato un modo più civile di incontrarci. Ah sì, è civile? Mi hai chiamato il macellaio di Kabul, il peggiore amico delle donne afghane. Se non sbaglio è il titolo del tuo ultimo articolo. Che cosa hai fatto a Maina? Che cosa ho fatto a Maina? Che le hanno fatto le tue menzogne. Oh, io ti conosco. Provieni da un'ottima famiglia. Hai studiato. E guardati adesso. Seduta lì come... un cane. Sette brillanti anni passati a Cambridge. Figlio di Munir Zayevkan. Il capo più potente e autorevole. Eppure sei seduto qui come me. Solo che per te è una scelta. ti ho invitata io a venire nella mia terra a portare la democrazia col fucile appuntato e far impazzire la mia gente. E' sempre meglio che vendere una bambina di 12 anni. Di solito in un'intervista le domande le fa chi sta dietro la telecamera. E credo che questa sia molto appropriata. Tu credi in Dio. Sì. Io credo in Dio. Io credo in Dio.